Ragazzuoli, ciao a tutti, ormai è doveroso parlare di fantamercato, utilizziamo questo termine anche se qualche dubbio ce l'ho, onestamente, vedendo anche quello che è il titolo del video, sentendo le ultime frasi di Negelsmann riguardo Federico Chiesa, mi sa che tanto fantamercato quello lì non era, però fortunatamente è arrivata anche una risposta che ci ha un pochino rasserenato, ma la cosa importante appunto è poter tornare a parlare dopo l'europeo di calciomercato, anche perché effettivamente la scaletta fino al 22 d'agosto, quando inizierà ufficialmente la Serie A, in qualche modo va riempita, è ancora un mese e mezzo bello pieno e almeno abbiamo la possibilità di commentare queste voci qui, che comunque butta via con i tempi che corrono. Ho detto questo ragazzuoli, ciao a tutti, buon martedì, mi auguro stiate tutti quanti bene, che senza ombra di dubbio è la cosa più importante, e prima di partire, se anche voi siete felici per il no della Juventus al Bayern Monaco per Federico Chiesa, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi, perché insomma il destino mi pare abbastanza evidente, ormai siete qui, siete qui spesso, e solamente un click voglio dire perché non farlo banalmente. Detto questo, appunto, la Juventus, secondo quanto ha riportato il Corriere dello Sport, pare abbia detto no al Bayern Monaco perché aveva offerto 80 milioni per Federico Chiesa. Ed effettivamente puzzavano, puzzavano tanto le ultime frasi di Negersman, cioè un paio di giorni di fila è andato dietro a Federico Chiesa dicendo sì, è bello, beh beh, è bravo, è giovane, è forte, guardate quanto sta facendo bene l'europeo, però costa caro. E sì, che cazzo vuoi? Cioè, ci mancherebbe a uno, ne abbiamo probabilmente due, tre forse, ma tirando la lunga, di buoni, voglio dire cos'è, dobbiamo fare la carità a te? Non penso proprio, già penso ci stiano pensando le altre squadre della Bundesliga, considerando che la rosa che avete adesso l'avete buttata su a furia di parametri zero o giocatori con clausole particolari che siete andati a pagare al massimo una decina di milioni, se altre squadre hanno giocatori importanti e non giocano in Bundesliga, purtroppo tocca pagare. Mi dispiace, Negersman, ma funziona così. Noi purtroppo lo sappiamo molto bene, considerando che i giocatori buoni, non fenomeni buoni, ce li valutano 50 milioni. Voi siete stati abituati, nel corso degli ultimi anni, ad un mercato interno un pochino diverso, però purtroppo funziona così. E il no della Juventus ha due aspetti positivi. Il primo è che finalmente, oh, tocca iniziare a dir di no ai giovani forti, sui quali punti tanto, nonostante si parli di cifre abbastanza interessanti. Ti va bene che spesso magari in queste dinamiche è importante anche quella che è la volontà del giocatore. Se il giocatore vuole rimanere, tu non hai neanche troppi problemi a rifiutare magari cifre anche alte, come quella appunto che presumibilmente ha offerto il Bayern Monaco. Se il giocatore invece vuole tornare un pochino come è stato il caso Pogba, tanto lì c'è poco da fare. Bene o male la sua volontà è quella di andare via, ti arrivano 100 milioni e a malincuore dici di sì. Se invece il giocatore vuole rimanere a malincuore dici di sì, anche in questo caso. E infatti nel dubbio dici di no. Dici di no perché Federico Chiesa rimane. E questa cosa mi fa piacere, il fatto che in caso è giunto il momento di iniziare a dire anche no quando ti arrivano delle offerte importanti. Perché va bene il Covid, va bene il bilancio, va bene tutto quello che vuoi, ma abbiamo un fenomeno. Da quel fenomeno bisogna ripartire, ma arriva un'offerta buona. Dico di no. E un altro aspetto positivo è che questo fa capire che effettivamente esiste il calciomercato in uscita anche per la Juventus. Ovviamente però con questi giocatori, senza ombra di dubbio, però la speranza è che magari qualcuno nel corso delle settimane si possa sbagliare e possa venir lì a fare un'offerta anche per un altro giocatore. Già quando vedi muoversi qualcosina dici ok, effettivamente il mercato sta iniziando a prendere un attimino piede. Ci stavamo un pochino tutti quanti preoccupando. Va bene che la situazione a livello globale, a livello economico, causa pandemia, non è dei migliori. Però allo stesso tempo vedi quegli altri 100 milioni per Sancio, sti qui 80 milioni per Chiesa. Noi se prendiamo Locatelli è un inno alla gioia, ma rimane pur sempre un altro discorso questo qui. Adesso stiamo parlando di Federico Chiesa e di calciomercato in uscita. E' un'altra notizia abbastanza importante per quanto riguarda il possibile mercato d'uscita, perché veramente quando si parla di questo giocatore tutti lo vogliono, ma ce ne fosse mai uno che ti arriva realmente con un'offerta. Oggi si è parlato di una possibilità di vedere Danielino Rugani, di vedere Tarta Rugani alla Lazio, anche perché Sarri stima veramente tanto il giocatore, l'ha avuto all'Empoli, l'ha avuto ovviamente nel suo anno alla Juventus, e pare si possa intavolare una trattativa che può andare verso il prestito con diritto di riscatto a cifre veramente irrisorie per quanto riguarda Rugani. Lì, come al solito, come tutti ben sappiamo, ormai purtroppo il problema è quello legato allo stipendio. Ormai Rugani ha un ammortamento che probabilmente se vai lì con 15-20 goli ad or pareggi il suo residuo a bilancio. Il punto è che sai, questo ti chiede 3 milioni e mezzo, cioè almeno chiede. Se chiede non lo so, ma è quello che prende. E per farvi capire, se non sbaglio Milinkovic ne prende 2 e mezzo. Cioè Milinkovic-Savic prende un milione netto in meno di Danielino Rugani. Quindi è sempre questo, no? Un motivo che ti fa dire, mi sa che questo qui fino a che non scade il contratto non si leva dei coglioni. A meno che lui non dica ok, pur di tornare titolare, a caso, alla Lazio, pur di tornare ad essere allenato da Sarri e tutto quanto, prendo 2 milioni meno e tanti saluti. Ma personalmente dubito. Non so perché, è un discorso che ogni tanto ci ritroviamo qui a farlo. Poi puntualmente tutti rimangono alla Juventus, quindi mi sa che la risposta su questo tema viene abbastanza da sé. Però effettivamente si è parlato di questa possibilità anche grazie soprattutto al bel rapporto tra Sarri e Rugani. E voglio dire, speriamo, poi vedremo che cosa succederà. La cosa più importante, senza ombra di dubbio, è che la Juventus sia tornata a dir di no a offerte del genere per giocatori importanti, fondamentali, sui quali bisogna fortemente gettare le basi per il futuro. E poi vedremo, perché poi se ti arriva il PSG e te ne offre 120, è già un pochino più difficile. Però, hanno già speso tanto, non vedo perché, no, questa necessità di spendere ulteriormente. Detto questo, ragazzuoli, voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento. Noi ci vediamo nei prossimi giorni. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Ciao! 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 Ciao!